ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube oggi continuiamo con i video a tema fc25 e oggi è il tempo delle migliori impostazioni controller e soprattutto delle impostazioni per la visuale di gioco in maniera tale da ottimizzare la vostra interfaccia senza troppe cose che vi diano fastidio prima però una piccola parentesi perché sicuramente tantissimi di voi avranno notato che nell'andare a cambiare lo schema di comandi classico con uno personalizzato purtroppo si perde la possibilità di fare il player lock e di muovere il portiere con l'analogico questo a causa di un bug che ho segnalato agli sviluppatori e che stanno risolvendo nel frattempo però per risolvere con una toppa temporanea mi hanno detto di fare così ovvero andare sullo schema dei comandi rimettere il classico uscire da qui andare nella sezione profilo andare su elimina e cancellare queste tre voci che sono relative all'online una volta fatto questo ritornate indietro sulle impostazioni nella personalizzazione dei comandi vi rimettete i vostri tasti entrate su foot e riscaricate le rose in maniera automatica e in teoria recuperate tutte le meccaniche che prima avevate perso l'ho fatto io l'hanno fatto dei ragazzi nelle chat durante la live e per fortuna si è risolto aspettiamo poi che questa cosa venga risolta a monte da loro andiamo adesso sulle impostazioni di gioco perché quest'anno come al solito è cambiato qualcosina quindi andiamo a a vedere come muoverci partiamo dalle configurazioni di base dove la configurazione competitiva vi ricordo che viene settata automaticamente ogni qualvolta andiamo a giocare online la prima cosa che possiamo andare a modificare invece l'aiuto tiro che io ho su assistito ma che attenzione quest'anno per chi vuole giocare competitivo va messa su precisione perché nelle partite competitive questa impostazione verrà automaticamente attivata dunque andrete a tirare voi con una maggiore manualità però non vi consiglio invece se non siete interessati al competitivo di usarla perché la percentuale di errore è molto più alta rispetto a poi quello che è il busto che il tiro va effettivamente ad ottenere quindi non ci accogliamo sta cosa perché altrimenti poi i nostri tiri finiscono tutti in rimessa laterale per quanto riguarda la finalizzazione a tempo sempre sempre si imparate il time ed raga quest'anno importantissimo in queste prime battute di gioco si tirano certe bombe con il time ed finishing verde che non ve lo sto neanche a dire quindi andate magari in battles lo imparate a fare con la meccanica perché vi assicuro che tutta memoria muscolare una volta che fate tanti tentativi vedete che vi verrà naturale anche su tiri a porta vuota per quanto riguarda i passaggi invece abbiamo aiuto passaggio filtrante e filtrante alto su semi perché purtroppo assistito qui non si può mettere quindi andate a mettere semi e non manuale per quanto riguarda invece raso terra cross passaggio alto assistito perché possiamo mettere assistito in maniera tale che i nostri passaggi saranno più precisi per quanto riguarda invece il blocco ricevitore del passaggio io utilizzo tardi in maniera tale da poter cambiare all'ultimo la direzione del mio passaggio qualora vedessi che magari il ricevitore del pallone sta per essere marcato intercettato per finire in fuorigioco o banalmente un altro si trova in una posizione di campo migliore quindi tardi ci da un po più di margine di scelta sensibilità passaggi precisi sempre sul normale per evitare di lasciare con bassa troppa libertà la cpu e con alta invece di dover stare troppo attenti a quella che la sensibilità per quanto riguarda la difesa abbiamo l'aiuto spazzata da mettere su direzionale in maniera tale che andremo noi a scegliere la direzione del nostro della nostra spazzata e non sarà una spazzata automatica che magari finisce sui piedi degli avversari l'affronta rimane fisso su manuale all'interno della modalità competitiva ormai da qualche anno per quanto riguarda invece la scelta tra difesa avanzata e tattica signori miei tutta la vita al momento di nuovo avanzata perché è nuovamente forte come l'anno scorso un peletto meno ma non come l'avanzata di fine anno di fc24 dunque con la x quando siete corpo a corpo andate a tirare delle belle spallate pulite che vi permettono di poter recuperare il pallone senza rischio senza fallo per quanto riguarda aiuto intercetti ovviamente sì in maniera tale che quando siete sulla linea di passaggio il giocatore cercherà di allungare il pallone in maniera automatica per quanto riguarda le opzioni di cambio invece io per il cambio automatico utilizzo palle alte vaganti ciò vuol dire che arriverà uno switch automatico quando ci sarà una palla persa o una palla alta quando sentite che questa cosa vi va un po a limitare magari su giocate come cross calci d'angolo eccetera andate a mettere manuale però manuale richiede una grandissima dimestichezza perché soprattutto all'inizio quando vi fanno i filtranti e non switchate in maniera manuale perché siete abituati agli automatismi prendete una barca di goal quindi io penso che palle alte vaganti è sempre l'opzione più safe e più standard per quanto riguarda l'aiuto movimento cambio automatico io sempre utilizzo nessuno questa è un'impostazione che negli anni è stata sempre dibattuta perché non si capiva bene che cosa facesse ve lo spiego quando andate a switchare con nessuno il giocatore che avete deselezionato rimarrà fermo con limitato farà dei piccoli passetti nella direzione in cui stava andando con elevato ne farà di più quindi io per evitare magari in difesa di switchare tra i due difensori centrale vedermi l'altro che se va a fare le passeggiate a mergellina metto sempre su nessuno cambio con la levetta destra utilizzo il classico quindi vado ad utilizzare il movimento dell'analogico per selezionare i giocatori soprattutto quelli più lontani il riferimento del cambio con la levetta è in base al giocatore e la sensibilità 5 in maniera tale che non abbiamo né una sensibilità troppo levata che ci chiederebbe una precisione estrema né una sensibilità troppo bassa che lascerebbe ancora una volta troppo spazio alla scelta della cpu quindi con 5 siamo nel mezzo cambio prossimo giocatore io utilizzo il più vicino alla palla in maniera tale che quando vado a switchare con l1 vado a prendere il giocatore che si trova più vicino a quella che è la minaccia potete anche utilizzare classico ma assolutamente evitate il verso la porta perché significa che magari state a marcar a centrocampo schiacciate l1 vi prende il difensore centrale disastro modificatore tempo di reazione invece una nuova voce che è stata introdotta quest'anno io sì con 5 di sensibilità e ci dice che utilizzando l'opzione cambio prossimo giocatore questo terrà conto del ritardo nel tempo di reazione tra il momento in cui ci diciamo di cambiare il giocatore e quando premiamo effettivamente l1 questo riduce le situazioni in cui decidiamo di cambiare il giocatore ma quando premi l1 il bersaglio prossimo giocatore è già cambiato questa finestra di tempo è definita all'impostazione sensibilità modificatore tempo di reazione che cosa significa questa cosa ve ne accorgerete tantissimo se avete il secondo indicatore in testa quando andate a difendere perché quello vi indica il giocatore che prendete con l1 di solito quando vi girate verso un altro compagno parte subito l'indicatore su quell'altro invece con questo qui se voi magari vi girate da un'altra parte ma volete andarvi comunque a prendere quel giocatore che prima si trovava nella giusta posizione qui avete una finestra temporale con 5 come impostazione intermedia con 10 secondo me un po' esagerata andando a salire se andiamo a mettere a 1 è troppo bassa quindi sarebbe come non avere più questa impostazione quindi al momento io la sto provando con 5 e mi trovo bene per quanto riguarda l'aggancio giocatore e il player lock che abbiamo citato prima si è tra l'altro quest'anno fondamentale perché per poter sopperire al fatto che i giocatori spesso e volentieri non si fanno trovare nella posizione richiesta andiamo a mettere l'aggancio a giocatore su sì in maniera tale da andarceli a tirare noi nella zona dove vogliamo che ricevano il pallone dribbling agile contestuato automaticamente impostato su no per la modalità competitiva l'aiuto portiere ovviamente parate semi scatto analogico da disattivare subito effetto grilletto da disattivare subito feedback fibrazione utente questa è una cosa personale a me piace il joystick che mi vibra tutto quando prende pali se vi dà fastidio lo andate banalmente a disattivare e mettete su per quanto riguarda invece la visuale vedremo più avanti perché sto ancora testando credo nel video di domani ma vediamo però a quelle che sono le impostazioni video ovvero dell'interfaccia durante le partite io per quanto riguarda in testa i giocatori faccio uscire il nome e l'indicatore del giocatore quindi ci sarà il triangolino e il nome del giocatore per capire effettivamente chi sto controllando per fare ciò poi andate a mettere anche su indicatore giocatore nome giocatore l'indicatore ovvero il triangolino lo utilizzo su predefinito non lo metto né troppo più piccolo né troppo più grande la dissolvenza la vado a mettere su sì il sistema di comunicazione questo delle partite rush una novità lo utilizzo su sì vado a lasciare gli indicatori del playstyle in maniera tale che so se si è attivato il mio tiro a giro plus se so se si sta attivando il razzetto eccetera per quanto riguarda l'indicatore cambio prossimo giocatore in questo caso qui andate a selezionare tra solo sul giocatore singolo sì e no solo sul giocatore singolo ovvero quando state giocando voi perché altrimenti se giocate non in singolo è inutile perché ci sarebbero gli altri a controllare altri giocatori indicatore difficoltà in base al giocatore in questo caso dice che mostrerebbe l'indicatore in base appunto a quello che è la difficoltà del giocatore stesso io questo lo tengo sempre disattivato mantieni per saltare sì in maniera tale che se tenete premuto schiacciato la x saltate l'animazione se invece la volete vedere ve la vedete se invece di spammare le x che vi perdete le cose mostra tempo risultato chiaramente sì mostra info in sovrimpressione lo disattivo subito per evitare che mi vanno le peggio statistiche sul campo che mi va a venire l'ansia perché poi non mi riesco più a trovare i giocatori indicatore passaggi precisi quindi sì per quanto riguarda sia il precision shoot che precision pass il radar in 2d poi mi sono impostato due colori standard in base a quelle che sono le magliette che uso perché uso una maglia blu e una maglia bianca quindi la mia l'ho messa blu per la casa e bianco per la trasferta in maniera tale che evitate che il radar che è fondamentale alle volte vi faccia vedere dei colori che sono troppo simili l'indicatore sempre su dissolvenza queste sono cose vostre estetiche io la tensione della rete ce l'ho normale con una forma e una trama assolutamente predefinite lo scorri formazione quindi la barra delle formazioni inizio gioco sotto anche qui assolutamente no per evitare che vi copre spazio di gioco il monitoraggio della connessione l'input li tengo disattivati per evitare di rosicare se vedo di lei e cose strane preferisco non saperlo le info dell'hyper motion anche in questo caso da disattivare per evitare di vedere troppe cose sul terreno di gioco così come anche il widget delle prestazioni del giocatore la lavagna tattica si per vedere quelli che sono i cambiamenti in partita quando magari cambiamo il nostro il nostro modulo il nostro focus sappiamo quest'anno come vanno a muoversi diversamente i giocatori se vi dà fastidio potete mettere anche no i suggerimenti tattici anche in questo caso sì che magari ci dà una mano il gioco come era un tempo per le sostituzioni veloci icona sotto il giocatore tutta la vita no per evitare quei pallini fastidiosissimi e qui la allenatore r a in rush l'ho disabilitata così come il sistema di ping quindi questo per avere un'interfaccia quanto più pulita possibile che ci permetta di focalizzarci sul campo anche per questo video è tutto come al solito fatemi sapere nei commenti se già avevate settato le impostazioni cosa ne pensate questo video lasciate un bel like iscrivetevi al canale io sono il live tutti i giorni sulla piattaforma viola e non mi resta altro che augurarvi una buona giornata a un saluto e a presto ciao